Furore, paura, inferno, rabbia, liberazione. Ti porteremo al cuore della Prima Guerra Mondiale. Con le persone che l'hanno scatenata e con chi ne ha pagato le conseguenze. Con filmati rarissimi, interamente a colori e in HD, per guardare la storia in diretta. Apocalypse, la Prima Guerra Mondiale, ogni giovedì dalle 20.55 su National Geographic Channel.